T'ho visto, eh? Non l'ho preso! E adesso è arrivato il tempo della punizione! Mentecatti! È bellissimo! Lion, sto portando il bordo! Porca mignorca! Com'è diventato? Ma sei grosso! E' morto! Ermano! No, Ermano! Mamma mia, sei... Sì, è cattivo! Smetti! Smetti! Smettila! Cattivo! Porca cazzozza, ragazzi! Mi stava per codare! Mala, mala sorte! Bruto, Ermano, imbecille che non sei altro! Allora, fermi tutti! Benvenuti su Minecraft quest'oggi, nei laboratori delle migliori mode di Lion! Noi potremmo trasformarci in queste creature mostruose! Prendetela anche voi, ragazzi! Forza! Sveglia, Anna! Oh, eh, buongiorno! Anna sta già ubriacata, però, eh! Perché che ha fatto? Che zambracchio peloso, Anna, però! Ma cosa c'è? Che cosa ho fatto di male? Bevevi! Ho percepito! L'ho percepito! Ma non è vero! Sono traumatizzata! Cosa hai fatto, Ermano, per ridurlo così? Io niente, ma stregatto evidentemente gli ha fatto qualcosa, eh! Niii! Non ti ciavolo! Ha fatto arrabbiato! Eh, vedete, voi che lo difendete! Lui, s***o i polli, eh! Che schifo! Una volta io dicevo Picchio i polli! Vi ricordate Picchio i polli? Ma non è nulla a confronto di quello che gli fa lui sto turpe! Esatto! Tiri tutto ciò! La cosa bella, però, del video di oggi, ragazzi, è che tutti i mostri che noi vedremo, e ce ne sono tantissimi, potrete già spizzarli un po' dalle gabbiette lì, ma noi potremmo trasformarci noi stessi e alla fine faremo un duello! Ognuno col suo! Ma tra questi mostri non c'è il mostro più importante! Quello delle schiappe mutanti e ardellose! Capisco! E poi tirare scorreggere! Sì, ma abbiamo capito! Perché? Non so se lo voglio vedere, quello, la YouTube! No, non voglio! Perché esistere? Quello è bravissimo, eh! Dai zitto, faccia il muro! Ecco, bravo! Allora, vediamo se funziona la trasformazione! Ora io ho il pollo in mano, quello che ho ucciso prima, e dovrei essere in grado di diventarlo io! TRASFORMATI! Arca! Oh, è la madonna! Che bello! Ma sei bellissimo! Guarda quanto fuori! Ma puoi sparare anche il fuoco come feceva lui? Lo posso fare! Non lo faccio! No, vabbè, ma sei fichissimo! È bello! Brusolissimi te! È molto bellino, mi piace! Ma i più belli, ovviamente, come in tutti i video del genere, ce li teniamo per più avanti, ragazzi! So che volete allungare l'occhio su quelle gabbiette per vederli di già, ma non le guarderò a posto! No, niente, spider! No, 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 no! Infatti partiremo da uno debole, partiremo dal porco! Oh, il porcellone! Che pollo! È interessante! Sì, e le metteremo in gabbia, le metteremo due in gabbia, le metteremo il porco, questo l'abbiamo già visto perché è il pollo hermano, passeremo al lupo, pollo e lupo, Pagliare! Oh, il lupo! Dai che sono curiosa! Chiudimi la porta, eh! Pronta? Che camera... Se l'avevo già chiusa! È molto pronta, capito? Ma sei Anna, tu? Ma lui adesso si chiama Anna, quanto parlo! Ma sei Anna? Ma sei Anna? Ma sei Anna? Non sono Anna! Via! Idiota! Sono pronta! Chiudi! Fatto! Grazie! Ma prego! Chiudi! Fatto! Grazie! L'hai un po' No! Ma il lupo è famedicissimo! Uno ad uno dovremmo ammazzarli! Mamma mia, è bello lungo, eh! È bruttissimo, Lion! Anche il porco, eh! Oh, Alex, ma è tua madre! No! No! Signor! Dobbiamo liberarla subito! No, 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 è meglio di no, eh! Mi sei arrabbiata! Signora, ma che cosa fa? Chiusa lì dentro, brutta scrofa! È scappata dal recinto! Con tutti i... Ma hai tentacoli, tua madre, eh! Mi sa di sì, vedi? C'ha un po' un braccio sulla schiena! Che schifo che fai! Pure mutata! Aspetta che... L'ammazzo, eh! Se non ti dispiace! No, no, no! Eh, scusa, ma... No! È meglio così! No, è morta subito! Sì, fa schifo, tua madre! Adesso la scannito! Posso catturarla! Certo! Possiamo farlo anche noi, grazie! Tutti in fondo vogliono essere un po' la madre di Alex, no? Per potervi dire di aver creato una schifezza con le gambe! Ma! Devo guardare bene, perché... Sotto quelle chiappe, Enor, Nick, sai, non si riesce bene ad apprezzare le tue feature. Ah, no, è vero! Io cammino con le chiappe, Lion! Ah, ho capito! Tiro fuori le rotelle e vado così in giro! No, 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 mio Dio! Tipo sedia! Va bene, andiamo! Esatto! Ehi! È nervoso, eh! Eh! Questo qua è aggressivo, eh! Ma che acapparla a questo, subito, eh! Questa sei tu, eh, brutale! Se mi dici quando bevo sì, sono io! Quando be... Cosa? Bambolero! Bravo! E adesso vai dentro! Vado dentro! Parliamo tutti insieme! Allora, dentro, ragazzi, lo ammazzo io, tranquilli! Non c'è pericolo! Sono troppo forte! Ma quanto sei potenti! Prendiamoci anche lui, ragazzi, e poi partiamo a fare una luata! Un duello! Io diventerò... Il lupo mi sembra molto forte, quindi diventerò lupo! Io voglio essere la bagliata! Va bene, va bene! Tua madre è tua! Diventa! Allora, vediamo subito! Così, ok! Olè! Mamma mia, ma sei bellissimo! Sono subito! Fidati che lo sappiamo! Oh, ce la fai! Oh! Aspetta, Lion! C'è un cooldown perché sono stupido! Il tuo è il cooldown! Vieni, vieni! Entriamo dentro! Ma senti tantissimo! Sei bellissimo! Allora, io non ci passo! Un po' di sparo, non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Lion, hai due code! Grazie, Anna! Vuoi toccarle? Sono... Voglio cavalcarti! Allora, Alex! Alex, stai lì fermo! Ti sottometto! Vai, sottomettimi tutto! Che male! Quanta vita possiedi, Alex? Ah, salvo! Ma tu sei fuori! No, io mi fai malissimo! No, ma, 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 ma! No, no, no! No, no, no! Vieni qua! Sò per marire! Porchettone! Funzioni, maiale almeno! Mmm, buono! Sì, un bel sapore di bacon! Bello succoso! Me ne manierei un chilo e mezzo di c***o di Alex! Uh-huh! E sapete di che cos'altro me ne manierei un chilo e mezzo? Ve lo dico subito! Delle mie carte di orda! Ma non è che me le magno! Me le spacchetto, ragazzi! E anche voi... Guarda, ve le sbatto così! Dovete andarle a comprare! Su Amazon le trovate! Basta cercare il gioco di carte orda Lion! Le trovate subito! Trovate i pacchetti! Trovate il doppio mazzo per giocare da subito! Ci tengo! Mi raccomando, ragazzi! Tutte carte date da me! Voglio che voi le collezioniate! Però dovete aiutarmi! Dovete dargli una possibilità! Sono sicuro che vi lascerà una bocca aperta! Proprio come farà il prossimo mo... Che fai? Vibri? No, eh sì! Sto facendo sì! Ma anche vibrando sì! Perché è felice! Vibra! Ah, per quello! Vibra! Proviamo l'altro mostro, però! Perché io il maiale non l'ho visto, eh! Voglio essere curioso! Troppo? Ma che bellissimo! Facciamo pure i tuoi testi! Sì! E ha un'abilità! Hai più braccia di quante ne servono! Questa è la mamma di Alex quando lui da ragazzino piccolo... Non faceva i compiti! Allora lei arrivava nella sua stanza, apriva la porta... Usa la sua abilità da maiale! Faceva... Così! Aia! Aia! Ci ha attaccato la malattia! Che schifo, tua mamma... Però tu dovresti difenderla, eh! Cioè non è giusto! Eh, infatti, poverina, la mia mamma che voleva solo che facessi i compiti! Voleva giusto, hai ragione, voglio dire! No, e tu eri un idiota, un ignorante! Infatti sei cresciuto in questa maniera! Prossimo tuo mostro! Annina, vieni! Sono pronta! Allora, stiamo partendo a andare verso quelli buoni, eh ragazzi! Perché questi erano i più imbecilli, banali, ma adesso... Scheletro, chiudi! Bello questo, eh! Ma mia! L'ho visto proprio sollevarsi in piedi! Uè, ma io noto un'incongruenza qui, prima di tutto! Stregatto, vuoi farci vedere il tuo di dietro, per favore? No! No, no, no! Ti ho capito di cosa parli! Allora, lui è cagato addosso! Non riesco a pulirlo! Dov'è la tua pipì? Ma la cimera! Mettila! No, gravissimo, gravissimo! Idiota! Anna, pronta? Pronta! Chiudi! Mamma mia! Mamma mia! Se questo lo metto tutto come un gormito! Mi sta tutto pisciando addosso per questo gormito qua grosso! Ma non è vero! Ma come no? Idiota! Ma già! Ma esci, maccavati dalle palle, idiota! Cioè, ti farei farei un giro in privato con sto vulcone qua! Ma che stupido demente, Dio mio! Ma perché ce lo portiamo? Ma non lo so! L'hai scelto te, non vuoi te! Ma perché? Ma come osa parlare in questa situazione? Ma stai zitto! Stupido! No, mi sto pisciando! Cosa? E dove sei pisciando? Oh, alleluia! Eccomi! Guarda che schifo che fai! Vabbè! No, mi sono pisciando tutto! Vi potete mettere una fianca all'altro, per favore? No! E voi i mostri sono paurosi, eh! Che schifo! Che schifo! Mamma mia! Nutella e succo di limone! Ma che schifo! Ti prego! Allora qui bisogna impegnarsi, eh! Mi dovete aiutare, perché questo mi sembra molto forte e io non posso andare! Non ti preoccupare! Ci penso che io! Apro! Dai, io questo mi pare duro! Mamma mia, non è troppo grosso! Vai, vai, vai! Colpitelo, vi prego! Colpitelo! E la madonna, l'ha stregato, è stato già codato! E sta, Alex, fuori! E ma anche lui si mette in mezzo, mica c'ho colpa io! Stai zitto, Alex! Scusa! Sottomettiti! Sottomesso? Ha stregato! No, che... Entra dentro! Ma io? Sì, mi entro anch'io, eh! Vai, vai, vai! A cazzotti, Anna! A cazzotti! Pogni, appogni! Ma perché non hai una spada? Ma anche tu devi essere stupida oggi! Sei morto! Eh? No, è perché... È perché sei scema! Non mi hai dato il permesso e io... Ma hai bisogno di prendere il permesso mio per prendere la spada! C'è donna mia, laio! Non sono inutile! Stupida sei! Sei stupida anche tu! Vieni! Vieni qua! Allora, mi raccomando, eh! Non fare che sei come Alex! Così, lo tieni in mano! Corri! No, va bene! Va bene! Ok, va bene! Vabbè, comunque è bellissima! Va benissimo, Anna! Ma che muscoli! Wow! Beh, mi sa che il mio è un po' più grande, però! Vieni! Andiamo! E' imponente! Ma guarda come ti muovi col sostegno delle tue braccione! E' un gorillone! Comunque i miei complimenti del giorno vanno all'imbecille che ha costruito l'arena più piccola e i mostri non passano per la porta, eh! Bravo! E stavo subito! Scusa! Bravo! Bravo! Complimenti! Bravo! Secondo me tu non sei solo cagato addosso, sei cagato dentro anche! No! Che schifo! Vieni, Anna! Allora, primo posto, la mia abilità del pugno a terra! Ok! Dai pure sbagliarla via! Secondo posto, abilità del pugno caricato! Ma se è il supermiglio? E' un pollo! E adesso, Anna, voglio vedere le tue di abilità, però! Quindi vieni qui! Facciamo scheletro contro scheletro, eh! Va bene! Allora, così! Così! Aspettiamo il piccolo cooldown! No! È sottomessa! Guarda come sono più alto di te! Guarda! Non è vero! Ecco, guarda! Adesso sono più alta io! Sei sempre più bassa! Sei bassa! Non è vero! Sì! Sei alta un metro e una banana! È più alto! Sì! 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 Che sto a fare? Frecce! Ah, tiro frecce d'ossa! Ah, boh! È fichissimo! Sì! Ma chiama perché io te prendo? Oh! L'hai ammazzata! Ma sei fortissimo! Che trucco! Dai, io fermo! Posso provare una cosa! Che cosa vuoi provare? Dai, fermo! Cuccia! Cuccia! No! Cosa tocchi? Non toccare per far vore! Non t'avvicinare! Ragazzi miei, però... Ho un dubbio! Ho un dubbio! Questi mostri sono molto belli, ma sono anche molto tanti! E infatti noi ne abbiamo da vedere ancora! Tutti questi qua! E sono questi! Non ce n'è mai io! No! Sono solo questi! Non ti preoccupare! Ma me ne ricordavo dell'altro! Un altro segreto! Dove me l'hai nascosto? L'ultimo è qua! E sarà alla fine questo qua! Ah, è proprio lui! Questo è quello più importante! Dai, adesso fuori! Allora vediamo gli altri! Allora, venite con me! Anna, stai pronta! Occhio perché questo è letale! Se poi ci penso io! Chiudi! Ma vabbè, era l'aspettabile! Ragazzi, ci griffa tutto! A casa! Non fate andare! Bravo! Bravo! Esplode, pure da morto! Ma pezzo di... Oscar, noi iniziamo l'avento! Sì! Non facciamo in tempo! Sì, prima che ne nasca un altro! Madonna! Veloce! Mamma mia! Ragazzi, questo serpentone o sceno l'avrete capito! Era un creeper mutante! Niente di più, niente di meno! Ma ne ho un altro! Un brutto puzzone! Anna, vieni! Eccomi qua! Mamma mia, sempre ubriaca però! Cosa fai? Perché be... Ma io non lo so! Sembra proprio quello che bevi! Ma non è vero! Ma no, non sarà vero però, sembra! Non è vero! Devo controllare le tasche per vedere se hai quei... Quei liquori mignon, sai? Che si portano le vecchie! No, 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 no! Le bocchagliette, Ryan! Con le monodose! Vai! Oh, questo fa schifo di brutto, eh! Ah, che sì! E io ho visto una bocca gigante che sta prima! Ma c'hai le gambe pelose come mia madre! Alex, sai cosa ti dico? Questo qua... E... No, ma non lo dico! Cos'è quella cosa che c'è dentro? Cos'è quel bombone? Alex, tranquillo! Questo qui è il meglio che tu puoi pretendere nel tuo futuro amore! Ok? Tu... Ma cazzo! Sì! E' vero! Ebbè, anche tu non è che sei proprio bellissimo, eh! Voglio dire... Ma bene, però mi merito di me! No, no, no! Questo, questo, questo! Guarda, è bello che è! È peloso! Ti ricorda tua madre anche che è buono! Che è brutto! Eh, senti a casa! Mamma mia! Non è grande! Si arrampica pure un po'! Bello, mi piace! Apriamo la porta e vado a sistemarlo, eh! Oh, che pillo! Sassi tu! Scendi, ti sdungo il bombone! Guarda, che schifo! Marino, Marino, che schifo! Ammazzato, stregatto! Questo non lo voglio prendere! Invece lo devi prendere perché ho intenzione di affrontarti! Oh, che schifo! Dai, è veramente orribile! Guardalo! Oh, adesso non è che voi siete così belli, eh! Tutto, tutto, tutto... Oh, capito! Ma più belli di sta a fare! Ma, scusa, eh! Oh, comunque, ragazzi, adesso vi posso far vedere i mostri che abbiamo preso fino ad ora! Anche perché finora non li ho fatti vedere, ma sono molto belli! Guardate lì dentro le loro taniche lì, no? Guarda che belli! Come sono grossi! Mamma di Alex, guardala qui! Guarda che figata! Fa la sauna, eh! Si sta rilassando adesso! Dice... Ah, buona la sauna, mammina! Buona! Esce Ma che schifo Sei pisciato Eh lo so Contamino, contamino di brutto Entri in sauna pisciato Che schifo Chi vuole affrontarmi adesso Avevi detto che devo essere io il ragno Allora va bene, tu sei il ragno e io il creeper Mamma mia quanto è brutto Oh no dai, io per andare lontani Lontani, lontani Un po' lontani, attenzione alle fiamme Vieni qua fratelli Vieni qua, prima di tutto Utilizzerò la mia abilità Ho paura che mi uccido Ah, vi lascio ai piccolini Ah, ma quello è un pene Bellissimo Era, era Era, era E ora la lancio della mia testa Aiuto Ma è fichissimo Il bombone Te lo do io il bombone, imbecilla Vieni qua che te lo sdumbo Con il mio No, 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 ti prego Io scappo Io scappo Ah Ah Dai, posso vedere la mia abilità No Pam E ti lancio quello piccolino Che potentissimo E poi vengo anche io 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 Beh, buono però E voglio vedere anche l'altro E fa po' bello Allora, l'altro era Il ragno Il ragno, giusto È il ragno brutto brutto È ragnao Ogni volta che io Non posso mai trasformare Deve aspettare il cooldown Eh, però Mangiaggia, maledetto Cooldown Bello Guarda come cresce E questo fa schifino Con la bocca profonda Che bocca orribile Che hai È il dolm Oh, magari puoi baciarlo Ma vai via Hai detto che è la mia unica Aspirazione di un amore Eh, ma ancora non l'hai conquistata Lion, sfruzzami Che schifo Ho anche un'altra abilità Guarda come sgabbirro Il ragnatele Da per troppo È schifo È forte Troppo tardi Ti ho trappolato Vai, mi catturai il bombone Aiuto, aiuto Non ti posso ammazzare No, ma che brutto È un peccato È un peccato Ma che schifo Basta Non mi piacciono i ragni Mi fanno schifo Ti sognerò la notte Oh Oh Non sai che sogno Oh, ma per fatto Con tutte quelle gambe Sì E anche di più Allora Prendiamo il mutant Snogolem Che lo Snogolem Fa un po' schifo Però secondo me Qui si redine Non è vero È sempre bellissimo E poi prendiamo il mutant Enderman Però Aspetta un attimo Adesso abbiamo una gabbia sola Ragazzi Ma lì C'è forte Il warden grosso Allora partiamo subito Dallo Snogolem Che mettiamo nella gabbia Ormai ne abbiamo una Quella funzionante Prego Allora vai Vedi ma è enorme Ma è grossissimo È bellissimo Guardalo Ma questo qui è Oddio Fa le puse Ma sta facendo puzzetti Dallo Mi ha fatto una scorreggia di ghiaccia È ben succedato Pazzesco Aspetta che lo vado ad accoppare Come si permette Questo di scorreggia Oh Oè Rotola Stai rotolando Ma è bellissimo Stai fermo Stai fermo Forte L'ho sottomesso Gli ho detto Stai a cu Mi state impedendo Dovete stare più lontani voi Guarda che schifo Anna No 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 Io ero lontana Ti ho lasciato tutto il tuo spazio Ma che è in mezzo Ma brutti schifosi Volevate impedirmi di avere Lo Snogolem Ma lo Snogolem L'ho che non hai visto Ma lo Snogole Fa le scorreggie di ghiaccia È la mia abilità preferita Ma lo sei tu Chi brutta maialaccia Cosa facevi Mi spiace lo volevo È bello Adesso prendiamo l'altro Enderman ragazzi Pronti Oh no Che l'ho detto via Sono pronta a cu Farlo È andato là Eh beh Eh no Come è duro Non state lontani Mi tippo a voi Raga è duro È durino È durone Ma la ciotola Ma la coppola È bravissimi Oh sì Allora lo prendo prima io Non mi impone Anna No no Non ti impone Anna Anna Cavati dalle palle Ma incavati Non dovete stare vicini No È stregato Stai zitto Scusa Sei fastidioso Digliere due per favore Alex Oh Ma perché Non stai zitto Con quella fogna Aperta Che ti trovi Grazie Hai capito Prego Ho capito Zitto Ha continuato a parlare Alex No Ma non hai capito Nulla Ma Prendi questo Eh Sì ma le mani Con lui non servono Capito Perché gli piace No gli piace Essere picchiato Che schifo E qual è il rimedio Dirgliene Se gliene dissi Si mette al suo posto Ma la testa bassa Tua madre non ti voleva Non ti parlavi Mentre Eh Quando parla a lei La mamma Non ti vuole dar via Non ti vuole dar via Quella Quella Ecco Scusami Però è vero Adesso lo rimango nel video Che lo ha detto Perché è vero Oh E non c'è niente di male Ma tua madre Fa schifo Oltre che essere Mi dispiace Per lei Anche a me Allora Proveremo adesso Chi vuole essere Il mio snow golem Io ti prego Tu Anna non l'hai preso Alla fine Sì l'ho preso Ah l'ha preso L'ha preso La signorella Va bene Sì tu allora No Ma l'enderman raga È un duro Ha 180 di vita Ma il po' rosso Eh Allora guarda un po' Che c'ho io Ma ne fate più alto Vabbè Sta un po' schifo Teletra Eh L'avete visto Siete piccato via Oh ma siete deficienti Eh sì Non sono di brutto Mi dispiace Ti spiego con l'acqua Ti fa male Sei un enderman Non lo fare E poi C'ho l'attacco Del teletrasporto Ma guarda cos'è fatto Bellissimo Ma presto di noi Gazzu Bellissimo Quali sono atomiche Cambiamo Mettiamo il golem Eccolo Oh che bello che sei Allora scorreggia atomica Vai Non funziona L'ha fatta da dietro Ok Attacco rotolante Va bene Va bene Potrei anche fermare E infine Attacco delle punte Di ghiaccio Bellissimo Lancio gli spuntoni Vabbè Diciamo che Lascia un po' desiderare Sia il golem Che l'enderman Ma il bello Arriva ora Ragazzi Adesso Il golem Che si infundo E bravo Il nostro Mutant Warden E il nostro Mutant Wither Mamma mia Allora Partirei con il Mutant Warden Ci vorrà un po' Ad ammazzarlo Potrebbe codarci Però non muore Lion secondo me Allora Pronti Pronti Prontessero Ma è bellissima Io non credo Che ce la facciamo Scodatelo Codatelo Codatelo E a terra Lo prendo subito Oh questo Lo potete prendere Solo io No Solo io Lo stai prendendo Di nascosto No Siamo sicuri Sì Prendilo Prendilo L'ho preso Questa che poi Lusi su di noi Allora ve lo faccio vedere Subito T'ho visto Non l'ho preso Guarda qui E adesso è arrivato Il tempo Della punizione Mentecatti Buonissimi tutto Sculk Bim Bellissimo Ti si apre tutta la gabbia toracica Aiuto Non sei più bella di tutte Guarda ti si apre tutta la cosa Abbiamo capito Anna L'hai detto tre volte Abbiamo capito Ma è bellissimo Stai zitta Non l'hai apprezzato abbastanza Sei bellissimo Non lo vedo Ti si apre Secondo te io vedo che si apre Guardati allora Non posso Anna Se me lo facevi prenderlo a mente Lo facevo vedere Ho capito Però hai due neuroni Fagli fare questa sinapsi Che magari capiscono Che se io sono il warden Lo vedrò da dietro Non da davanti Hai ragione È imbecille E poi io l'attacco In salto Che è questo Salto Mi ha spazzata Wrestling W W Sì Anna Sei presa una bella panzata pelosa Ti sta bene Ho fatto malissimo Adesso mi tolgo E finalmente dobbiamo affrontare il Wither Boss Che dovrebbe essere ancora più forte del Wither Wardenly E se rompe tutto Ci penseremo dopo No Perché le vado No Vai che non è così forte Mi sembra un picciolo No è mortale No è mortale No è mortale Ma lui vado E niente Non è vero è forte Ok È qui No non riesco Dai a moriremo tutti No No Dai a moriremo tutti Dai a moriremo tutti Ammazzatelo L'è morto L'è morto L'ho avuto Oh mia Bravo Prendilo Prendilo Non puoi prendere solo tu questo assolutamente Stai lato ti ho mai detto che sei superiore ad Alex in tutto Mamma mia quanto Ma wow mi sto abbracciando da solo Che schifo Ma buona perché Ah sai che mi sa che questo Ma non puoi non ti preoccupare Mi sa di no eh No è possibile Mi sa che questo non puoi perché è troppo potente quindi è imprendibile Ma stai scherzando Sì Aspetta forse No mi sa che non l'ho potuto proprio prendere No Ma c'è chi Oh non è vero Non è vero Ce l'ho Vai Ti vieni Sono stupido E ogni volta scordo E da per pollo Ecco 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 Hai stregato dei ridi No scusa era simpatico Però sei molto bello tu Ah Mamma mia Ebbè Mamma mia E la madonna E la madonna C'è sempre a me Crap pipe C'ho di più eh L'attacco in balzo Venite qua Penei Vai balsami E poi Ma che stai a fare se senti male Ma che bel castello Marco D'Rondello Però ragazzi direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza Abbiamo visto tutti i mostri Va bene Continua così Abbiamo nuclearizzato tutti Più e più volte E quindi ci possiamo fermare Vi ricordo ancora una volta ragazzi Che trovate Orda E su Amazon E anche sul mio sito Lionwgf.it Andate a comprarlo Conto su di voi Che collezionate le 196 carte Che lo compongono E per oggi Lion out Stai Stai Stai